Nulla da dichiarare. Si trinceva dietro un laconico no comment la dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero Filippo De Cecco di Pescara, la professoressa Alessandra Di Pietro, dopo i due episodi di violenza che hanno coinvolto, loro malgrado, due suoi docenti. Il più grave nel laboratorio di cucina, Officina del Gusto, dove uno studente, rimproverato, ha prima preso all'abbavero il suo professore e poi gli ha tirato un pugno. Qualche giorno prima un altro docente si è preso due ceffoni da una mamma per una nota alla figlia. Episodi inqualificabili che si aggiungono ad altri episodi sparsi su tutto il territorio nazionale a differenziare ciò che sembra essere diventata una vera e propria emergenza nel nostro paese, tanto da spingere il Parlamento a proporre una legge già approvata alla Camera che prevede l'inasprimento delle pene per chi si lascia andare a comportamenti così violenti, mentre è già stato disposto il patrocinio gratuito dell'Avvocatura dello Stato a tutela dei professori aggrediti. Sui due specifici fatti accaduti all'alberghiero sono al vaglio provvedimenti non prima di aver discusso nel dettaglio la questione in sede di Consiglio di classe ed istituto, mentre la dirigente scolastica parla di moderazione e prudenza rifugiandosi dietro la privacy per tutelare aggressori ed aggrediti.